CREIAMO UN'ONDA DI ENERGIA Venerdì, alle 21 di ogni fuso orario, sulla Terra, per 13 minuti le menti e le anime si mirano per creare un'onda di energia che si sposterà da un fuso orario all'altro, dal polo nord al polo sud, alle 21 di ogni venerdì un'onda armonica risuonerà, un toccasana per chi ne ha bisogno. Questo brano sembra proprio fatto apposta, sarà un caso? Usatelo come base per quella sera, un canto angelico che vi porterà fino dentro l'anima. Una preghiera fatta solo di emozioni. E se parteciperete agli Hangout, la stessa musica verrà ascoltata da tutti, nello stesso momento, e questa energia diventerà tangibile. Sarà la musica a determinare il cammino dell'anima. Al buio ascoltatela, in raccoglimento e lasciatevi portare dall'infinito, lasciando tutto e tutti voi soli. Nessun pensiero per 13 minuti. perché potrete entrare in voi stessi come non è mai accaduto. Le energie si uniranno in una emozione unica, quella della musica di sottofondo. Creeremo un'energia che smuoverà le coscienze. Non aspetteremo quella dell'universo esterno a noi. Noi siamo l'universo. Aspetta noi smuovere le coscienze, creando noi quell'energia, oltre le religioni, oltre gli umani, nostri limiti. fratelli. Che in un certo momento della nostra evoluzione attraverso molteplici incarnazioni, ci troviamo a condividere questo tempo, questa realtà, questa scuola. Organizzatevi. Fate delle trasmissioni in diretta in modo che siano molte le persone a partecipare. Partecipate attivamente al propagarsi di questa iniziativa. Che tra l'altro, mi sembra una cosa così pazzesca che potrebbe anche funzionare. Cazzarola! E voi, che già fate qualche tipo di meditazione, vi rendete conto di cosa potrebbe accadere? Semplicemente andrete oltre. Ogni essere umano che parteciperà in quei tredici minuti andrà oltre. Un'occasione fantastica. Ogni venerdì, dalle 21 alle 21 e 13. Fatela diventare un'abitudine tutta quell'energia, come si può fare a meno di lei. Come fosse la preghiera di ringraziamento per la mensa. La giornata è finita ed energì, ok. Chiudiamo col passato e rigeneriamoci per tredici minuti. Mettetevi comodi. E se siete un gruppo fisico, datevi anche la mano. Le energie si sommano. Usate questo testo e traducetelo, e mandatelo lontano, ad informare che noi lo facciamo. Grazie. Albertino Febio. Cioè, io me. un'occasione.